ecco lo sapevo io chi cazzo è quello oh porco e dove scappo però e dove scappo ciao rockers come state veramente bene bentornati in mia compagnia bentornati nel malicius cat club allora qua come vedete siamo nella menta nel senso che siamo nel sangue a gogo vi ricordate nella puntata scorsa siamo stati sfragandati da un'orda di zombie che ci ha mandato il caro buon amico Rubik bene adesso ci riproviamo subito dopo l'intro ok ok ci riproviamo tu come la vedi io non la vedo veramente bene prima di tutto prendiamo la balestra saliamo qua sopra ah l'ha presa senza salire ok qui ce n'è un altro e però c'è da dire che ci siamo sfragandati un attimino perché siamo saltati sulle bombe cazzo porca miseria come mai ha fatto pipipi aspetta un attimo sali qua stai giù stai che io la voglio disarmare comunque ce l'abbiamo fatta tonculato tonculato ok dopo l'intro procediamo voi come la vedete qua dentro ok ragazzi via si parte ma puoi anche tirarti su eh invece di stare in posizione cagante aspetta un attimo prima di andare là perché abbiamo visto che se andiamo là compare il nostro caro amico ti scrivo e questo? che fa questo? vedere vedere che è successo ragazzi? ah fantastico la vedo molto meglio così trick and track un bombo a mano caspita così la vedo veramente meglio eh va bene ragazzi dai si si dai Rubik adesso visto che siamo già morti nell'episodio precedente non ci fai più effetto maledetto te i tuoi effetti si eh io adesso intanto c'ho le bombe a mano e la vedo bene così ne ho sbrindellato qualcuno o no? oh mica tanto com'è che non sono sbrindellati però azzo qui abbiamo fatto una cazzata mi sa prendila però prendila però orco 2 azzo non l'ho visto questo veloci però via via corri via porco 2 brucialo che magari bruciano anche gli altri e dai e dai porco 2 maledetti maledetti ne l'abbiamo fatta eh ok la vedo bene andiamo solo un po' di cose qua andiamocene andiamocene porco 2 c'hai paura te? io no non c'ho più paura maledetti che succede qua? ma il dottore dove cazzo è andato quello? blocchiato assegniamola questa siringa anzi facciamocela che la vedo veramente meglio no 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 ma cazzo voglio la pistola io non la palestra che succede qua? silenzio assordante ragazzi fatemi vedere veramente bene che è sto bordello qua ecco lo sapevo io minchia chi cazzo è quello? oh porco 2 ma chi è quello? e dove scappo però? ma dove scappo? aia no mi ha preso di brutto aia senza storia con questo meglio scappare ma dove? oh my god ma che era quello ragazzi? mi sembrava quello che uscìa dalla televisione porco 2 di quel film come cacchio si chiama già? qui già la vedo male ragazzi quindi abbiate pazienza se magari moriamo un po' di volte però qui fatemi studiare meglio scappare dove? scusa perché qui non è che ci vedo molte molte alternative si parla di scappare dove vado qua? perché questa porta qui è chiusa capito? ecco e quindi lì non possiamo andare giusto? ah tu dici apriamo questa? ah infatti ok facciamo le prove perché qua c'è grossa crisi porco 2 ma è sparita la porta? eh ciao bellissimo qua non è che si evita questo? ah ah dove è andato quello? oh merda scappiamo noi scappiamo alla grande scappiamo alla grande non so veramente bene dove e dai che è cotto questo oh 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 sta arrivando quello dietro merda da dove cazzo scappo? oh tu mi devi spiegare dove scappo dov'è quello? oh my god non la vedo bene qua io sto continuando a correre come un pazzo non mi prendi 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 però corri eh non mollare non mollare ciccio bello occhio veloce qua bisogna vedere veramente bene dove bisogna andare eh ma porca troia ah fuck me dude e dove vado? oh cazzo qua giù 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 qua oh 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 porco due c'è ancora una musichetta le qua oia disinstalliamola pure se prendiamo pure i tardi noi eh ma non molli mai mortacci tua mamma veloce qua oh oh porco due ragazzi porco due ragazzi mamma mia l'ho vista spessa con questo coso dietro eh what oh porca troia no 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 vai ma corri cazzo oh no 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 corri cazzo porca troia corri cazzo what the fuck guys oh scusate ma mi devo riprendere un attimo qua eh oh carichiamoci carichiamoci un attimo abbiglie ferme spariamoci pure questa così stiamo al massimo vado al massimo questo che è? vado al massimo dove andiamo qua porco due vado al messico voglio andare a vedere eh qui non sappiamo però dove cacchio stiamo andando qua tu com'è la vedi qua? non lo so stiamo scendendo all'inferno? che è? what? che cazzo? oh aia pezzo di menta di un rubic delle palle ci ha fatto fuori il rubic non la vedo veramente bene adesso come possiamo fare? e ci proviamo di nuovo ragazzi che dobbiamo fare? occhio occhio dov'è? oh shit eccolo là oh my god no 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 stai calmo stai dov'è? orca calmati ciccio bello ecco ecco oh my god oh oh porca trota no 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 non la vedo oh shit oh 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 fermo aia scusate tutto storto scusate ma vadrizza te ciccio capitolo superato ok in dipercure mi fermo qua capitolo superato ce l'abbiamo fatta abbiamo evitato ma chi era quella? non ce l'ho un nome per quella datelo voi un nome a quella donna ragno del cazzo che mi ha veramente impressionato e poi abbiamo siamo sfuggiti a rubik quindi io la vedo bene tutto sommato questo capitolo ci siamo abbastanza salvati dai comunque un bel like iscriviti mi raccomando il like dovete metterlo perché qua ragazzi ho giocato ok dai non l'ho giocato male forza dai caspita qua dentro io mi trovo veramente in un bordello quindi datemi una mano mettete un bel like iscrivetevi al canale fate conoscere il canale andate sulla pagina facebook seguitemi su twitter e niente ci vediamo alla prossima ciao rockers ciao Grazie per la visione!